La cosa che mi dispiace è essere usciti così perché si vedeva a fine partita, ho visto le lacrime di tutti, quindi significa veramente che abbiamo qualcosa di importante dentro. Ci tenevamo tantissimo a regalare una gioia ai tifosi, alle nostre famiglie, a noi, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Questo sicuramente abbiamo dimostrato di essere una grande squadra con un grande gruppo, quindi veramente sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e veramente sono onorato perché un gruppo così è difficile trovarlo. E quindi veramente voglio fare complimenti a tutti i ragazzi, a Presidente, staff, tutti, perché hanno dimostrato di essere persone vere e abbiamo dimostrato noi di essere un gruppo coeso, unito, veramente complimenti a tutti. Ma assolutamente, il mister ci tene tantissimo, ci l'ha dimostrato, ci trasmette tantissimo e quindi veramente ci teneva tanto, come tutti noi e quindi veramente ci teneva a fare bene, a fare bene e arrivare in finale per vincere. Perché è una persona carismatica, è uno che ci tiene veramente, è un appassionato del proprio lavoro e quindi voleva regalare anche lui una gioia a tutti. Assolutamente, questa è una cosa che abbiamo detto sin dall'inizio, che è un pubblico di altre categorie. Infatti ancora oggi ci hanno dato la dimostrazione. Il rammarico più grande è proprio questo, perché volevamo regalare una gioia soprattutto a loro, che hanno sofferto insieme a noi tutto durante l'anno. e veramente li ringraziamo tutti perché ci hanno fatto sentire ancora una volta il calore della piazza, veramente.